Eri di Usi ASMR Ciao a tutti! Come state? Spero tutto bene! Oggi andremo a mangiare le patatine, le nuvole di drago Eccoli qua! Come sempre c'è sempre questo sottofondo del mincio che sta mangiando E lo lasciamo mangiare tranquillo, intanto noi smettiamo le nostre patatine Gettite come crocchia, crocchia, crocchia E gli metodi più buoni, per me every fregete le nuvole, gli bianchi fiocchi Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua piocchi, 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 piocchi va da ticchine andiamo ad esserciare Pag. 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 Grazie a tutti.